Gretano Sanfilippo, Head of Operation di Ideal Comunicazione, un'agenzia italiana in forte sviluppo a livello anche internazionale. Sicuramente la tecnologia oggi dà delle grandi opportunità per chi si occupa di formazione, però quello che è importante è non pensare che la tecnologia sia la soluzione ad ogni problema. La tecnologia in realtà è solo un mezzo, uno strumento che deve rendere più efficace la modalità di formazione. Faccio un esempio, sicuramente la realtà virtuale è una tecnologia che può permettere di rendere sempre più efficace la capacità di dare strumenti per imparare attraverso le simulazioni. Questo grazie anche al fatto che con la possibilità di raccogliere sempre più informazioni per quanto riguarda gli utenti proprio attraverso la tecnologia, quindi attraverso i big data, siamo in grado di creare un circolo virtuoso perché raccogliendo informazioni siamo in grado di rielaborare continuamente e costantemente le modalità di formazione attraverso l'esperienza che viene fatta grazie alla tecnologia. Questo però non deve far pensare alle persone che è sufficiente la tecnologia e quindi non avere mai il coraggio di cercare strade nuove. Solo attraverso la ricerca e l'esplorazione è anche l'errore, siamo capaci nel tempo di trovare nuove strade nell'ambito della formazione. È un po' come riscoprire l'America, quindi dobbiamo essere capaci di cercare anche attraverso il coraggio del rischio nuove strade e non fermarci solo a quello che già conosciamo.